Ave legionari. Parliamo di Dura Europos. È una città antichissima, magnifica, governata prima dai parti, conquistata dai romani, conquistata dai sasanidi con delle tecniche anche di combattimento di guerriglia che, vedremo, sono avveniristiche per i tempi e devastanti e terribili. È una città che ancora oggi, nelle sue rovine, è custode di reperti importantissimi, unici al mondo. Facciamo un viaggio nell'antichissima città di Dura Europos per scoprirne tutte le meraviglie. Grazie a tutti. La città di Dura Europos ha ovviamente una data precisa, in realtà, di fondazione e ha anche un nome. Seleuco I Nicatore. Seleuco I Nicatore era un generale di fanteria di Alessandro Magno che nel 303 a.C. individua una formazione, una città, un primo centro abitato fondato dai greci che si trova in una posizione strategica. Vede questo centro abitato, che si chiamava già Dura, lo ingrandisce, lo organizza e ne fa una grande città importante con una struttura urbanistica di un certo tipo, organizzata. Rende questo centro abitato una delle città più importanti e la chiama Dura Europos. Grazie all'iniziativa di questo generale nasce una città importantissima nel territorio che vediamo nella cartina. Ci troviamo nell'odierna Siria, questa è ancora oggi la posizione di Dura Europos, e Dura Europos ha una posizione strategica soprattutto per motivi militari e per motivi di commercio. Vediamo benissimo. Dura Europos si trova esattamente qui ed è a metà strada tra Antiochia, nell'odierna Turchia, da un lato. L'Antiochia è ora una delle più grandi megalopoli del mondo medio orientale, quindi si trattava di una città le cui merci erano importantissime, e dall'altro lato, invece più est, sulla città di Seleucia sul Tigri. E quindi anche, capite benissimo, che Dura Europos, trovandosi a metà fra questi due centri abitati, grandi e organizzati, era praticamente un passaggio obbligato per raggiungere queste due metropoli. Ma, importante, troviamo anche Palmira, famosissima città, carovaniera, anche lei era un crocevia di popoli, soprattutto di merci preziose, e anche Palmira vedeva in Dura Europos uno scalo importantissimo e un passaggio irrinunciabile per il commercio di tutta quella zona ricchissima che era il Medio Oriente. Quindi la fortuna di Dura Europos dipende, dal punto di vista commerciale, dal fatto di essere in mezzo a città importantissime in perenne scambio tra di loro. Ovviamente c'è anche l'aspetto militare, nel senso che una città posizionata in questo punto così centrale permetteva di intervenire militarmente presso i centri più grandi con tanti uomini in poco tempo. E questa è la posizione, e questi sono i fattori che resero nell'arco di pochi decenni Dura Europos, una grande città fiorente. Dura Europos fa gola, è una città che fa gola a tanti popoli antichi, e al popolo dei parti, all'impero dei parti. Nel 113 avanti Cristo i parti compiono una spedizione militare e conquistano Dura Europos. E qui ovviamente ci sono tanti studi, direi che quelli più attendibili sono di un grande studioso russo, Mikhail Rostosev, che ha fatto una grandissima serie di scavi su Dura Europos e ci ha dato tante informazioni sul periodo partico, si chiama periodo partico di Dura Europos. Sappiamo che Dura Europos divenne sicuramente per i parti un centro militare, che aveva sempre un presidio dell'esercito subito pronto ad intervenire, perché era una città di frontiera, era una città fondamentale per il controllo di tutta la regione circostante. Però, questo è molto importante, i parti non fanno di Dura Europos solamente una città militare, ma fanno in modo che fiorisca a livello culturale. Dura Europos era governata da una aristocrazia macedone, perché era fondamentalmente di fondazione macedone come abbiamo detto, che era un'aristocrazia molto tollerante nei confronti di altri gruppi etnici, di altre persone che venivano a stabilirsi all'interno della città. E allora in Dura Europos, durante il periodo partico, arrivano grandi quantitativi di persone un po' da occidente e un po' da oriente. Da occidente vengono sicuramente i greci. I greci, che sono una componente fondamentale di Dura Europos, che portano lì la loro cultura. Portano la cultura, la filosofia, la retorica, ovviamente l'alfabeto greco, quindi la loro scrittura. Tanto è vero che tutti i documenti ufficiali, ma anche i documenti commerciali o le iscrizioni, quindi le iscrizioni prevalentemente anche funerarie, sono scritte prevalentemente, per la stragrande maggioranza, in greco. Quindi i greci lasciano un'impronta pesante, un'impronta culturale forte dentro Dura Europos. Però, oltre ai greci, che per la posizione di Dura Europos sono occidentali, ci sono tante altre popolazioni orientali, ognuna delle quali porta il suo contributo culturale. Ci sono per esempio le popolazioni semitiche, gli assiri, i babilonesi, con la loro cultura millenaria. C'è anche una componente iraniana, una componente persiana, anche una componente ebraica. Ognuna, vedete, che porta la propria lingua, le tradizioni, la cultura. Cioè si crea proprio un crocevia di popoli, si crea veramente un minestrone di popolazioni differenti, con le loro tradizioni, con i loro contributi culturali. Quindi Dura Europos, in questo periodo è una città meravigliosa, ricca di popolazioni, di etnie differenti, ricca di tradizioni che si mescolano, e poi vengono fuori anche delle tradizioni nuove assolutamente originali, meravigliose. Un simbolo forte di questa ricchezza culturale si vede nella architettura, perché c'è una meravigliosa fusione tra l'architettura greca, che è composta da spazi ben definiti, da regole precise, da elementi che si ripetono in maniera regolare, da soprattutto elementi costruttivi basati sulla pietra e sul marmo. Quindi la cultura classica si unisce prevalentemente, quella più forte, l'architettura babilonese, che invece è estremamente larga, sontuosa, sfacciata, possiamo dire così, ed è composta da terra essiccata e da intonaco molto molto colorato. Quindi pensate all'unione architettonica tra la correttezza formale dell'architettura greca e i colori sgargianti e lo stile imperiale dei babilonesi. Lo vediamo in queste immagini e vediamo quindi una città meravigliosa, che è diventata un mix di popoli e di culture, ed è veramente uno dei fiori, diciamo, culturali di tutto questo territorio. Ovviamente la città di Dura Europos fa gola anche ai romani e quindi arriviamo a un periodo che è il periodo imperiale, quello dell'imperatore Traiano. Traiano, nelle sue campagne di conquista, che ovviamente coinvolgono il Medio Oriente, nel 114 d.C. riesce a conquistare brevemente Dura Europos, perché si rende conto della sua importanza. E quindi c'è una conquista romana di Dura Europos da parte dell'esercito dell'imperatore Traiano. Sappiamo in particolare che la legione terza cirenaica fu in grado di conquistare la città e vicino alla cosiddetta Porta Palmirena, cioè l'uscita della città di Dura Europos che portava verso Palmira, eressero anche un arco di trionfo per questa conquista con delle scritte in latino. Questa è una traccia di una prima dominazione romana di Dura Europos. Cosa accade però successivamente? Il punto è che alla morte di Traiano alcuni territori che aveva appena conquistato e che non erano stati ancora consolidati vengono inevitabilmente perduti. In particolare per questioni geopolitiche e di gestione Dura Europos viene sostanzialmente riconsegnata dai romani ai parti perché non sono in grado di governarla. Quindi bisognerà aspettare una seconda spedizione militare, quindi un secondo momento della storia, che avviene di lì a pochi decenni. Lì ci sono delle campagne militari condotte da Lucio Vero, che era il fratello adottivo del più famoso imperatore Marco Aurelio. Lucio Vero, che era poi accompagnato da una serie di altri grandi generali, Avidio Cassio, Frontone, quindi aveva uno stato maggiore molto dotato di capacità militari che lo accompagnava, riesce a conquistare, fare delle campagne partiche e finalmente nel 165 conquista definitivamente Dura Europos, che viene, entra definitivamente nell'orbita romana e viene iscritta ufficialmente all'interno della provincia di Siria. Grazie alle campagne partiche di Lucio Vero, Dura Europos diventa ufficialmente una città stabilmente sotto il controllo romano e i romani daranno a Dura Europos una impronta molto forte e molto particolare. Qual è l'impronta romana su Dura Europos? Quando i romani entrano in Dura Europos vedono, come abbiamo visto, una grande città che ha conosciuto un periodo di splendore, una città culturalmente molto ricca, l'impronta romana è un'impronta prevalentemente militare. La utilizzavano come un avamposto contro il regno dei parti, quindi era un avamposto militare per loro importante e quindi l'urbanistica della città si arricchisce di nuove strutture prettamente militari. Innanzitutto sappiamo che era stato costruito un enorme accampamento con un muro di mattoni dove stavano i legionari, dove stavano i soldati romani che erano di stanza fissa all'interno della città. Poi nel corso del tempo nella zona nord, nella zona settentrionale, questo accampamento viene posizionato e viene arricchito, viene costruito per esempio il palazzo del governatore, il palazzo del generale, che diventa anche uno dei palazzi più belli di Dura Europos. E poi mano 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 la vita dei legionari nel nord della città procede e si cominciano a costruire degli anfiteatri per i legionari, che stando lì per diversi anni poi avevano bisogno di portare avanti una vita sociale, di avere dei divertimenti, anche di entrare in contatto con la popolazione. Quindi la parte nord diventa praticamente militarizzata. E una cosa importante, degli elementi importanti di questo periodo sono dei templi, templi che riflettono una grande varietà di religioni diverse, tanti credo diversi che convivono all'interno della stessa città. Ci sono per esempio dei templi in onore del dio Mitra. Il dio Mitra era un dio appunto tipico di queste zone, era un credo che per certi, per un certo periodo fece anche concorrenza a Gesù Cristo, però non riuscì a espandersi come il cristianesimo perché era un rito misterico, bisognava compiere dei sacrifici particolari, dei rituali riservati a pochi. Però in quel periodo il dio Mitra aveva una buona diffusione e quindi noi vediamo dei templi dedicati a questo dio che sono ancora bellissimi, che si vede dalla loro posizione nella città erano importanti per la popolazione. C'era poi una meravigliosa sinagoga ebraica e questa sinagoga ebraica non solo era un centro importante, una costruzione fondamentale per tutti gli ebrei, ma era anche dal punto di vista artistico molto interessante perché entrando all'interno di questa sinagoga si trovava tutta una serie di dipinti sui muri che non erano casuali ma raccontavano la storia degli ebrei. Erano proprio dei dipinti didattici che permettevano di imparare attraverso l'arte la storia del popolo ebraico e quindi entrare all'interno di quella sinagoga era un'esperienza formativa per tutti quanti i fedeli, questo era anche molto bello importante dentro Dura Europos. E poi c'era anche invece la cosiddetta casa cristiana, cioè questa era molto più piccola rispetto alla sinagoga, era praticamente un'abitazione privata a cui probabilmente vennero aggiunte un paio di stanze e venne riconvertita in chiesa cristiana. Quindi c'era una comunità cristiana a Dura Europos che utilizzava questa abitazione riconvertita per il suo credo religioso e per fare svolgere tutte quante le funzioni e i riti cristiani. E qui ci sono delle cose particolarissime. Perché particolarissime? Le immagini ce lo fanno capire. All'interno di questa casa cristiana ci sono alcune delle più antiche testimonianze del mondo della religione cristiana. Secondo Graydon Snyder, che è uno dei principali studiosi proprio della parte cristiana di Dura Europos, ecco che qui troviamo delle raffigurazioni, forse le raffigurazioni più antiche che abbiamo di Gesù Cristo e delle sue parabole. C'è la raffigurazione della parabola del buon pastore, c'è Gesù e San Pietro che camminano insieme sulle acque, c'è la guarigione del paralitico, una delle parabole più famose di Gesù. Quindi vedete che troviamo qui alcune delle raffigurazioni e delle testimonianze più antiche della storia umana legate al cristianesimo. La storia però di Dura Europos a un certo punto cambia. Cambia perché? Perché l'impero dei parti conosce una specie di rinnovamento con una nuova dinastia di re ed imperatori che è la dinastia dei Sasanidi. I Sasanidi sono una nuova dinastia che prende il controllo del regno dei parti che adesso si chiamerà regno o impero Sasanide e questi regnanti hanno una politica estera estremamente più aggressiva dei loro predecessori, una politica di conquiste tutto a danno dei romani e in particolare uno dei governanti Sasanidi, il re Shapur I, cioè Sapore I, che è un re terribile perché è anche un re che riuscirà a sconfiggere e a catturare l'imperatore Valeriano, che verrà ritratto in ginocchio come prigioniero di fronte al re Sapore. Ecco il re Sapore decide di conquistare Dura Europos sempre per la sua importanza militare e allora nel 256 d.C. i Sasanidi di Sapore I decidono di assediare la città che è ovviamente abitata e difesa dai romani e qui comincerà un assedio devastante. Noi purtroppo non abbiamo delle fonti antiche che ci spiegano esattamente questo assedio, ma grazie al lavoro di ricostruzione archeologica riusciamo a capire le fasi di questo assedio, di questo combattimento. Venne eseguito un primo attacco da parte dei Sasanidi alla torre numero 14 di tutta quanta la configurazione delle mura di Dura Europos e i Sasanidi utilizzarono la cosiddetta mina. Cominciarono a scavare una mina, la mina sarebbe una galleria sotterranea. Questa mina non aveva tanto il compito di sbucare dall'altra parte, aveva il compito di minare le fondamenta della torre di guardia, della torre di protezione, per farla poi crollare e quindi poter entrare attraverso la breccia che naturalmente si creava. I romani si resero conto che i Sasanidi stavano scavando questa mina e si stavano avvicinando alla torre e allora costruirono una contromina, cioè una contro galleria, per intercettare le gallerie dei Sasanidi e per fermarli. Quindi immaginate che si era scatenata tutta questa guerra sotterranea, questi scavi che venivano fatti di giorno e di notte in preda all'arsura, al calore, alla paura di essere scoperti. Ecco, tutta questa lotta sotterranea. E questa lotta sotterranea come andò a finire? Andò a finire che i romani riuscirono ad intercettare le gallerie dei Sasanidi. Quindi capitò immediatamente uno scontro sotterraneo tra i Sasanidi e i romani e siccome i Sasanidi riuscirono ad avere la meglio, i romani cominciarono ad uscire dalla galleria, in fretta e furia gli abitanti e i legionari che sono rimasti sopra tapparono il buco della galleria per non far uscire i Sasanidi e così riuscirono a cavarsela. Ma qui avvenne comunque un fatto gravissimo, anche tecnologico. Proprio in questa fase i Sasanidi cominciarono per combattere i legionari romani sottoterra nelle gallerie, presero un misto di pece e di zolfo, lo incendiarono e si crearono dei fumi velenosi che, attraverso dei soffietti, loro cominciarono a convogliare verso i legionari che vennero investiti da questa nube tossica, quindi un'arma non convenzionale, e cominciarono a morire avvelenati, intossicati da questa nube devastante nelle gallerie sotterranee. Noi abbiamo ritrovato 19 corpi di legionari morti per questi fumi tossici, oltre ad un Sasanide, probabilmente colui che aveva acceso il fuoco per dare il via all'intossicazione. Quindi pensate la violenza di questi scontri che avvenivano sottoterra. Ci fu poi un secondo attacco dopo questo. Questa volta i Sasanidi presero di mira una torre di guardia che era praticamente a strapiombo su un burrone, perché ritenevano che così sarebbe crollata più facilmente. Allora costruiscono un'altra mina, costruiscono un'altra galleria, attaccano questa torre che effettivamente grazie al loro intervento comincia a crollare. Però i legionari reagiscono prontamente, ricostruiscono per tempo la torre, tappano la breccia e impediscono ai Sasanidi di entrare. E quindi anche questo secondo tentativo non è fruttuoso. Si arriverà a un terzo tentativo che finalmente per i Sasanidi riesce, che è organizzato in questo modo. I Sasanidi vanno di nuovo nella zona settentrionale della città e cominciano a fare una cosa furba. Costruiscono, da una parte costruiscono una rampa, quindi una montagnetta, una collinetta che deve colmare il dislivello delle mura protettive per arrivare sulla sommità, sulla cima delle mura. Mentre stanno costruendo questa rampa e questa montagnetta e quindi si stanno avvicinando, contemporaneamente costruiscono una mina sotterranea. E questa volta la mina non serve per far crollare il muro ma proprio per sbucare dall'interno della città. E purtroppo per i romani questa tecnica funziona. Perché i romani sono tutti impegnati a controllare la rampa, impedire l'avvicinamento dei soldati. Dalla galleria improvvisamente sbucano i guerrieri Sasanidi. I romani sono presi contropiede, questa volta non riescono ad organizzarsi. Si crea una confusione generale e i Sasanidi penetrano all'interno di Dura Europos, sconfiggono i romani, ne massacrano diverse migliaia e prendono il controllo definitivo di Dura Europos, che diventa una città Sasanide. Che cosa avviene poi? Con la conquista da parte dei Sasanidi Dura Europos perde gran parte del suo splendore e gran parte della sua ricchezza culturale. Ci sono diverse interpretazioni sul post-assedio dei Sasanidi. Noi abbiamo uno scrittore antico, Ammiano Marcellino, che ci dice che l'imperatore Giuliano nel 363 d.C. era entrato con il suo esercito in questa città e l'aveva trovata completamente deserta. Quindi sembrerebbe che Dura Europos sia stata abbandonata sostanzialmente dopo la conquista. Ci sono però dei ritrovamenti archeologici che vanno un po' a smentire, perché è Kumon, che è un grandissimo archeologo, un'altra grandissima fonte sulla storia di Dura Europos. Kumon, che è un archeologo belga, ha ritrovato, assieme ad altri colleghi, hanno ritrovato per esempio delle lampade, segno che quindi c'era un'attività commerciale. Hanno ritrovato anche delle monete del periodo di Costanzo II. Quindi è più probabile, dati ritrovamenti archeologici, che Dura Europos abbia perso la sua importanza, ma non sia diventato una città fantasma. È probabile che sia rimasta una città in tono minore, che comunque conservava ancora un po' di attività commerciale, anche se imparagonabile rispetto al periodo Partico, per esempio. Ma Dura Europos è una città molto importante anche per un altro aspetto, che riguarda più noi che cerchiamo di ricostruire il passato. Dura Europos è stata una città molto attiva, molto molto viva, che ha visto tanti eserciti che si sono fronteggiati, ma è anche una città molto calda e piena di sabbia, perché parliamo sostanzialmente della zona medio orientale della Siria. Quindi tantissimi reperti si sono perfettamente conservati e a Dura Europos troviamo tantissimi reperti di inestimabile valore. Facciamo solamente qualche esempio. Sono stati trovati, per esempio, delle lettere dei legionari, degli ordini che erano stati impartiti ai legionari, degli ordini delle licenze che erano state consentite a dei soldati, dei documenti ufficiali, alcuni parti di alcuni libri, perché era una città ricca di biblioteche. Uno dei ritrovamenti più belli in assoluto è questo scudo che stiamo vedendo, che è qualcosa di fenomenale. Perché fenomenale? Perché questo qui è l'unico scudo di un legionario romano sopravvissuto intero ed integro al mondo. È l'unico scudo di un legionario romano che si è arrivato fino a noi. Qualsiasi studio non può prescindere da questo esemplare meraviglioso. Grazie a questo scudo. Questo è uno scudo molto bello, molto aggraziato, quindi probabilmente non era uno scudo per il combattimento, era più uno scudo da parata o comunque uno scudo anche per dimostrare la ricchezza del proprietario. Ma questo è il solo scudo al mondo che abbiamo di un legionario romano, lo scudo di Dura Europos. Questo è un reperto di valore incredibile e incommensurabile. E poi c'è stata un'altra scoperta molto particolare. Il nostro archeologo Franz Cumont, che abbiamo detto prima, nel 1923 stava indagando sui resti di Dura Europos e ha trovato un'altra cosa meravigliosa. Ha trovato alcuni scudi di legionari romani e sul retro di uno di questi scudi c'era praticamente un pezzetto di pelle, un pezzetto di pelle di cuoio e sopra questa porzione di pelle di cuoio, ha trovato una mappa, una mappa di Dura Europos disegnata personalmente da, non si sa bene se un arciere o un capo della fanteria o della cavalleria, ma comunque da un ufficiale esattamente della ventesima corte palmire norum. Cioè ha trovato la mappa di Dura Europos disegnata personalmente da un soldato romano distanza in quella zona, in quella situazione. Questa che noi stiamo vedendo in questo istante è esattamente la mappa disegnata dal legionario romano. È molto sbiadita, non è facile da capire, ma osservandola attentamente si comprende proprio tutta l'immagine, si comprendono le varie distanze tra i punti delle città che sono indicati con delle parole greche ma utilizzando il sistema delle miglia romane. Questo è un reperto meraviglioso, c'è una mappa disegnata direttamente da un legionario romano e forse l'unica al mondo. Avviso a tutti gli appassionati, questa mappa che è stata ritrovata ha subito anche alcuni processi, cioè con la tecnologia sono stati recuperati i tratti del legionario, la mappa è stata riveduta, corretta, sono stati aggiunti i colori, sono stati definiti meglio i tratti che erano stati disegnati dalla mano del legionario e questo è il risultato finale. Questa è la mappa ottimizzata e migliorata di Dura Europos disegnata da un legionario. Per chi desidera ed è attratto da questa mappa, da questa testimonianza unica, il Bar di Roma Antica, mette a disposizione la riproduzione su tela proprio di questa mappa. Quindi un prodotto acquistabile sul nostro sito bardiromantica.it nella sezione del negozio online troverete la riproduzione, un quadro, la riproduzione su tela di questa meravigliosa mappa disegnata dalla mano di un legionario romano pronta per l'acquisto per chi vuole avere un ricordo di questo video e di questa storia. Dura Europos quindi è, come abbiamo visto, un patrimonio immenso per gli archeologi e per tutti gli appassionati, rimane quindi il ricordo di una città importantissima che ha visto passare la storia ed è stata protagonista di avvenimenti a volte assolutamente tragici ma importanti per tutta la zona e per tutto il periodo dell'antica Roma e anche del regno Sasanide. Speriamo di avervi affascinato con la storia di Dura Europos, vi invitiamo ovviamente a iscrivervi al canale del Bar di Roma Antica per non perdere i video e dovete immediatamente iscrivervi subito in questo momento al canale del Bar di Roma Antica perché altrimenti noi facciamo come i Sasanidi. Voi state con il tavolo a mangiare regolare con la vostra famiglia, scaviamo una mina e vi crolla il tavolo. Dormite, scaviamo una mina e vi crolla il letto. State studiando, una mina e vi crolla la libreria. Allora per non crollare in continuazione, per non vivere crollati, iscrivetevi al Bar di Roma Antica, al nostro canale. Un caro saluto e al prossimo documentario. Grazie per la visione!